Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio quorum sulle intenzioni di voto politiche nazionali. Affluenza 50-54%, Fratelli d'Italia tra il 26,1 e il 28,1, il Partito Democratico tra il 18,2 e il 20,2, il Movimento 5 Stelle tra il 14,9 e il 16,9, la Lega tra il 7,6 e il 9,1, Forza Italia tra il 7,4 e l'8,9, Alleanza Verdi-Sinistra tra il 4,1 e il 5,6, Stati Uniti d'Europa tra il 3,7 e il 5,2, azione 3,7 e 5,2, altri partiti 6%, 7,5. Grazie a tutti per avermi ascoltato, ci vediamo al prossimo video. Arrivederci a tutti e grazie.